La mia fede in Dio gli farà perdere il lavoro. Perciò litighiamo ogni giorno e mi picchia ferocemente per costringermi a smettere di credere. Ora che mi trovo in questa situazione, non so cosa fare. Ho sentito che hai avuto un'esperienza simile. Sì. Allora, per favore, raccontami. Va bene. Dopo aver ricevuto l'opera di Dio negli ultimi giorni, ho predicato il Vangelo a mio marito. Con mia grande sorpresa, dopo aver ascoltato, ha trovato online ogni tipo di falsità sulla chiesa di Dio Onnipotente. Erano tutte calunni e voci fabbricate dal Partito Comunista. A quel punto, mi ha lanciato un'occhiata e ha gridato «Guarda qui, quello in cui credi è il lampo d'Alevante che il PCC perseguita da anni. Ti arrestano, ti condannano immediatamente e ti mandano in prigione. Non ti è più permesso credere». E poi ha stracciato tutti i miei libri delle parole di Dio. In quel momento ero furiosa, però poi ho pensato che probabilmente si opponeva alla mia fede perché era stato condizionato dai pettegolezzi del PCC. Più avanti avrebbe capito. Sapevo comunque che credere in Dio è sempre la strada giusta e non ci avrei mai rinunciato. Giusto. Dopo quell'episodio, mio marito mi chiamava di continuo per sapere dove fossi. All'epoca facevo la magistrale, quindi per eludere la sua sorveglianza frequentavo le riunioni vicino all'università e tornavo a casa solo nel weekend. Alla fine del 2012, quando il PCC ha intensificato la sua frenetica campagna di soppressione e arresti su internet, in televisione e sui giornali, giravano ovunque voci e falsità che condannavano e calunnavano la Chiesa di Dio Onnipotente e i credenti venivano arrestati di continuo. Mio marito temeva che il mio arresto avrebbe colpito anche lui e la sua famiglia e mi sottoponeva a restrizioni sempre più severe. Mi ha anche minacciata dicendo che avrebbe divorziato se avessi continuato a credere in Dio. Queste parole mi hanno fatta stare male. In Cina, credere in Dio non comporta solo un rischio di condanna e di carcere per noi, ma anche le pressioni dalla famiglia. È così difficile. Sì. Mi chiedevo cosa sarebbe accaduto a nostra figlia se avessimo divorziato. Giusto. Per quei pochi giorni non ho avuto alcun interesse a svolgere i miei compiti, ero infelice. In seguito, quando una delle mie sorelle è venuta a conoscenza del mio stato, mi ha letto un passo delle parole di Dio. Mi è stato molto utile, quindi te lo leggerò. In ogni fase dell'opera che Dio compie negli uomini, da fuori sembra che ciò che accade sia dovuto a un'interazione tra individui, come se fosse originato da interventi o da rapporti umani. Ma dietro ciò che appare, ogni fase dell'opera e ogni cosa che accade vi è una scommessa che Satana fa con Dio e che richiede alle persone di testimoniare per Dio. Quando Giobbe fu messo alla prova, dietro le quinte, c'era Satana che faceva una scommessa con Dio. Ciò che accadde a Giobbe fu dovuto all'intervento e alle azioni degli uomini. Dietro ogni fase dell'opera che Dio compie in voi, vi è la scommessa di Satana con Dio. Dietro ogni cosa vi è una battaglia. Amen. Amen. Le parole di Dio mi hanno fatto capire che esteriormente le mie difficoltà erano rappresentate dall'oppressione di mio marito, ma in realtà era Satana a turbarmi. Dio vuole salvare le persone, mentre Satana provoca ogni sorta di disturbo e scompiglio per indurmi a tradire Dio, perdere la Sua salvezza e alla fine essere trascinata all'inferno insieme a Lui. Satana è così sinistro e maligno. La tua condivisione mi fa comprendere che dietro alla persecuzione di mio marito nei miei confronti, ci sono gli intrighi di Satana. Satana vuole rendermi impossibile lasciare la mia famiglia e mio figlio in modo che io mi allontani da Dio e lo tradisca e finisca per essere sepolta al suo fianco. Questo è vero. Quando comprendiamo la verità, sappiamo discernere i complotti di Satana. A quel punto ho pregato Dio. Dio, la mia statura è troppo piccola, perciò ti chiedo di darmi la fede. Anche se io dovessi divorziare da mio marito, non ti tradirò e non cadrò nei tranelli di Satana. Amén. Dopo la preghiera, tutto è diventato più sopportabile. Io ho continuato a diffondere il Vangelo. Ho sentito che verso la fine di quell'anno sei stata catturata durante una riunione. Sì. La polizia mi ha accusata di disturbo dell'ordine sociale e mi ha trattenuta per 30 giorni. Durante l'interrogatorio, l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale mi ha minacciata. La tua università sa già del tuo arresto e vuole spellerti. «Però, se collabori con noi e ci dici quello che sai, parleremo noi con il Rettore e ti sarà concesso di proseguire nei tuoi studi. Pensaci bene». Rimasta sola, guardavo le fredde sbarre di ferro della cella e mi sentivo depressa e infelice. Se fossi stata espulsa per la mia fede, sarebbe diventata una questione politica, riportata nella mia fedina e nel fascicolo studentesco. nessun ospedale mi avrebbe mai assunta e il mio sogno di diventare medico non si sarebbe realizzato. A soli 30 anni, i miei studi, il mio lavoro e il mio futuro sarebbero andati distrutti. Come avrei vissuto poi? Come avrei potuto affrontare la discriminazione dei miei parenti e lo scherno della gente? Per alcuni giorni, non sono riuscita a mangiare né a dormire bene. Sì, sarebbe davvero difficile scegliere in una situazione del genere. Durante la mia detenzione, ogni giorno pregavo Dio affinché mi aiutasse. E una mattina, senza accorgermene, mi sono ritrovata a canticchiare un inno di Dio. Mio stesso Sì, sarebbe davvero vivera. Grazie a tutti. 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 Sia l'ho dato Dio. Amen. Ero molto grata a Dio. Ma tuo marito si era opposto alla tua fede in Dio, quindi dopo il tuo arresto le restrizioni che ti imponeva devono essere diventate più pesanti. Dopo essere stata rilasciata e mandata a casa, per farti uscire di prigione, per farti uscire di prigione, sono andato in giro a chiedere aiuto e mi sono messo completamente in imbarazzo. Non ho mai più intenzione di soffrire così. Mi ha anche chiesto di smettere di più, per impedirmi di contattare i miei fratelli e sorelle, per impedirmi di contattare i miei fratelli e sorelle, mi controllava come se fossi una criminale. Non mi faceva uscire di casa e non mi dava alcuna indipendenza. In poche parole, eri prigioniera. Esatto. Quando andava al lavoro, mi faceva sorvegliare da sua madre. Mi chiamava costantemente e mi chiedeva dove ero e cosa stavo facendo. Mi parlava anche incessantemente dei movimenti rivoluzionari del PCC e dei violenti metodi correttivi utilizzati, per illustrarmi le conseguenze della disobbedienza al partito ed eliminare le mie idee sulla fede in Dio. Ha aggiunto «Le voci che il PCC fabbrica sulla vostra chiesa sono false, lo so. Tu vuoi credere in Dio e loro non te lo permettono, ma se disobbedisci, ti rovinano la vita. Pensa alle tragiche morti della rivoluzione culturale e dell'incidente del 4 giugno. Se offendi il PCC, non puoi nemmeno scappare all'estero». Mia suocera si è unita a lui, dicendo «Il PCC non è nulla di buono, ma detiene il potere. Noi siamo solo gente comune e non siamo abbastanza forti per resistergli». In seguito, sono stata espulsa per la mia fede in Dio e a quella fede mio marito attribuiva tutte le cose brutte successe alla nostra famiglia. Ogni volta che qualcosa lo infastidiva, mi rimproverava, mi derideva e mi attaccava. Era un tipo di vita che mi faceva sentire molto depressa. E per di più, non potevo leggere la parola di Dio né contattare i miei fratelli, quindi ero particolarmente infelice e non sapevo per quanto sarebbe andata avanti così. Allora, come hai vissuto durante quel brutto periodo? In quei giorni pregavo spesso Dio per chiedergli di illuminarmi, guidarmi e permettermi di capire la Sua volontà. Un giorno, ho ripensato a un passo della parola di Dio. Forse ricordate tutti queste parole, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Tutti voi avete udito questa frase, ma nessuno ne aveva capito il vero significato prima. Oggi, invece, siete pienamente consci del loro significato reale. Dio porterà a compimento queste parole negli ultimi giorni e in coloro che sono stati brutalmente perseguitati dal Gran Dragone Rosso nella terra in cui esso giace arrotolato su se stesso. Il Gran Dragone Rosso è nemico di Dio e lo perseguita. Perciò, in questa terra, i credenti sono sottoposti a umiliazione e oppressione. Ecco perché queste parole troveranno compimento nel vostro gruppo. Dal momento che tutta l'opera di Dio viene intrapresa in una terra che Gli si oppone, essa incontra ostacoli enormi da sormontare e occorre tempo perché molte delle sue parole si realizzino. Così, tramite le parole di Dio, la gente subisce un raffinamento e questo è un altro elemento di sofferenza. Non è facile per Dio compiere la Sua opera nella terra del Gran Dragone Rosso, ma è attraverso tali difficoltà che Dio compie una fase della Sua opera, manifestando la Sua saggezza e le Sue meravigliose opere. e sfruttando così l'opportunità di rendere completo questo gruppo di persone. Amen. Sì, dalla parola di Dio ho capito che il Gran Dragone Rosso detesta Dio e Gli resiste selvaggiamente. Per questo motivo, in Cina, chi crede in Dio è destinato a grandi sofferenze, ma quel dolore ha un significato. è uno strumento usato da Dio per perfezionare la nostra fede e donarci discernimento. Ho pensato, solo perché credo in Dio, il PCC mi ha arrestata. Mi ha persino fatta espellere dall'università. Ha usato il lavoro, il futuro della mia famiglia, per minacciarmi e farmi rinunciare alla vera via. Il PCC è veramente malvagio. Sì. Mio marito ha cercato di impedirmi di avere fede perché credeva alle dicerie e alle menzogne del partito e temeva le sue violenti misure correttive. Sperimentarne personalmente la persecuzione mi ha permesso di vedere la sua essenza demoniaca che lo porta a essere malvagio e a odiare la verità. Ho pensato, più il PCC mi perseguita, più lo rifiuterò, lo abbandonerò e seguirò Dio fino alla fine. Amen. Amen. Anche se non potevo leggere la parola di Dio o contattare i miei fratelli, sapevo che Dio è fedele e mi avrebbe mostrato un percorso da seguire. Sì. E come hai fatto a prendere contatto con la chiesa? Dopo dieci mesi, ho finalmente trovato l'opportunità per contattarli. È meraviglioso. Quando finalmente ho potuto leggere di nuovo la parola di Dio, ero molto emozionata e ne ho percepito ancora di più il valore. Più leggevo, più mi sentivo illuminata e rinvigorita. Lodi a Dio. Un giorno, diversi mesi dopo, mio marito ha trovato il mio quaderno dei devozionali nella mia stanza. Quando ha capito che credevo ancora in Dio, ha perso la calma e mi ha stesa a terra con un pugno. Poi si è accanito e mi ha colpito almeno altre venti volte sulla testa. Ero semicosciente e stordita e avevo bernoccoli grandi come un uovo di piccione sulla testa. Ricordo la furia fredda sulla sua faccia. Mia figlia di sei anni era così spaventata che è scoppiata a piangere. Non picchiare la mamma, lascia stare la mamma. Lui mi ha afferrata per il colletto e mi ha buttata fuori dalla porta, mentre diceva furiosamente «Se continui a credere in Dio, allora esci da casa mia». Quando ho visto il cambiamento di mio marito, la sua crudeltà e come non gli importasse degli anni passati insieme, ho sentito il cuore che si spezzava. La cosa più difficile da sopportare era vedere quanto mia figlia avesse paura del suo carattere violento. Appena lui si avvicinava a me, lei pensava sempre che mi avrebbe picchiata. Così si metteva di corsa davanti a me e alzava quelle braccia piccoline per proteggermi. Diceva «Stai lontano dalla mamma!». Capitava che mi trovassi al piano di sopra e appena lui si avvicinava alle scale, mia figlia gli urlava di stare fermo e non salire. Ogni volta che vedevo la mia bambina così piena di paura e ansia, il danno psicologico di avere a che fare con la violenza domestica così piccola era come una lama rigirata nel cuore e odiavo ancora di più il Gran Dragone Rosso. Tutti questi disastri sono stati causati dalla persecuzione del partito. Vero. Un giorno di ritorno dal lavoro, mio marito ha tirato fuori il suo cellulare e ha detto arrabbiato, «Guarda qui, ci sono stati molti altri arresti. Vuoi ancora credere? Desideri la morte? Puoi credere in Dio, va bene, ma non trascinare me e nostra figlia con te. Se ti arrestano di nuovo, la nostra vita diventerà impossibile. Se avessi saputo che avresti intrapreso il percorso di fede, non ti avrei mai sposata». Le Sue parole mi hanno ferita molto profondamente. Ho ripensato al periodo precedente, alla mia libertà che era inferiore a quella di un criminale, solo perché credevo in Dio, a quante volte mi aveva picchiata e al dolore che questo infliggeva a mia figlia. E ho capito che non potevo più scendere a compromessi. Così ho accettato la richiesta di divorzio di mio marito. E così avete divorziato e basta? No. Quando ha visto che non rinunciavo a Dio, ha chiamato mio fratello per convincermi. Mio fratello mi ha sempre voluto bene ed è sempre stato orgoglioso di me. Però ero stata arrestata dal PCC espulsa dall'università e mi era stato proibito di proseguire gli studi. Ora mancava solo il divorzio e poi sarei diventata lo zimbello del paese. Mio fratello sarebbe stato così deluso. Non sapevo come affrontarlo. Ho invocato Dio nel mio cuore e Gli ho chiesto di proteggermi, così che non avrei mai rinunciato alla mia fede, a prescindere da tutto. Sì. Poi ho ripensato a un passo della parola di Dio. Devi possedere nell'intimo il mio coraggio e avere principi nell'affrontare i cari che non hanno fede in Dio. Ma per amor mio, non devi cedere a nessuna forza oscura. Affidati alla mia saggezza per percorrere la via della perfezione, non permettere alle macchinazioni di Satana di avere il sopravvento. Giusto. Dio ha creato l'umanità. Avere fede in Lui e seguirlo è naturale e giusto. Sì. Dobbiamo rimanere saldi nella scelta del nostro cammino senza farci ingannare da Satana. Nessuno può interferire, nemmeno i nostri cari. Poi, di fronte a mio fratello e mio marito, mi ha incolpato di tutto ciò che era successo per la mia fede e, vista la mia calma, ha alzato una mano per colpirmi, ma mio fratello lo ha fermato. Poi mi ha detto con fare tranquillo, sei una donna adulta e puoi decidere per la tua vita, però devi tenere conto anche di cosa accadrà a tua figlia se divorzi. Se pensi a quello che è successo alla mia, saprai che fine farà la tua. Le sue parole mi hanno rattristata per un po', perché pensavo al suo divorzio e a mia nipote, che veniva spesso ridicolizzata e disprezzata dagli altri. Un bambino rimasto senza madre fa tanta pena. Mi facevo tante domande. Se divorzio, non diventerà anche mia figlia orfana di madre? Non verrà discriminata e messa in ridicolo da insegnanti e compagni? Senza di me al suo fianco, se vivesse con suo padre e i suoi nonni non credenti, sarebbe in grado di percorrere il cammino della fede? Quando pensavo a quanto fosse piccola, sentivo di non poter sopportare la separazione da lei. Certo. Ero veramente infelice in quel periodo. Così ho pregato Dio. Dio, non posso abbandonare la mia bambina. Il pensiero del suo futuro è un dolore costante. Ti chiedo di illuminarmi, guidarmi e proteggere il mio cuore. Poi ho letto due passi della parola di Dio e lì ho trovato un percorso di pratica. Leggiamoli insieme. D'accordo. Oltre alla nascita e all'educazione dei figli, la responsabilità dei genitori nella vita di un bambino consiste semplicemente nell'offrirgli un ambiente tradizionale in cui crescere. Poiché solo la predestinazione del Creatore influisce sul destino di una persona. Nessuno può controllare quale genere di futuro si presenterà ad un individuo. Esso è prestabilito con largo anticipo e neppure i genitori possono cambiare il destino di qualcuno. Per quanto concerne il destino, tutti gli uomini sono indipendenti e tutti hanno il proprio destino. Così neppure i genitori possono scongiurare ciò a cui una persona è destinata nella vita o esercitare il seppur minimo influsso sul ruolo che uno svolge nella propria esistenza. I genitori non possono aiutare qualcuno a realizzare la sua missione nella vita, né allo stesso modo i parenti possono aiutarlo ad assumere il suo ruolo nell'esistenza. Il modo in cui una persona compie la sua missione e il tipo di ambiente di vita in cui assolvi al suo ruolo sono interamente determinati dal suo destino nell'esistenza. In altre parole, nessun'altra condizione oggettiva può influenzare la sua missione che è già prestabilita dal Creatore. Tutti gli uomini maturano nel loro particolare ambiente di crescita. Poi, passo dopo passo, prendono la propria strada nella vita. Portano a compimento i destini che il Creatore ha già pianificato per loro. Inconsapevoli, entrano nel vasto oceano dell'umanità e occupano il loro posto nell'esistenza, dove cominciano ad adempiere al proprio dovere di esseri creati, nell'interesse della predestinazione del Creatore, della Sua sovranità. Amen. C'è un altro passo. Ecco, leggilo tu. Ok. I progetti e le fantasie degli uomini sono perfetti. Essi non sanno che non spetta a loro decidere quanti figli avranno, quale aspetto, quali capacità e così via. non sanno che il destino dei loro figli non è affatto nelle loro mani. Gli esseri umani non sono i padroni del proprio destino, eppure sperano di cambiare il futuro della generazione a venire. Impotenti di fronte al destino, tentano comunque di controllare quello dei loro figli. non si stanno forse sopravvalutando. Queste non sono stupidità e ignoranza umane. Amen. Amen. Sì. Dio ha creato tutte le cose e ha la sovranità su ognuna di esse. Il destino delle persone è nelle sue mani. I genitori allevano i figli e basta. Sì. Non possono cambiare il loro destino. Ho sempre pensato di poter influenzare e controllare la vita di mia figlia, che avrebbe potuto trovare la felicità finché fossi stata accanto a lei e che avrei potuto condurla lungo il cammino della fede. A pensarci bene, però, non avevo potere nemmeno sul mio di destino, quindi come potevo averne sul suo? Infatti, qualche giorno prima, si era sentita male ed era svenuta, ma non potevo fare nulla per alleviare il suo dolore, potevo solo stare a guardare e implorare Dio di proteggerla. Mentre eravamo in montagna, mia figlia è inciampata e quasi cadeva dal dirupo. Non ho potuto fare assolutamente nulla. Incredibilmente, si è salvata solo per un albero morto sul ciglio del dirupo. Questi eventi mi hanno fatto capire che anche se mi prendevo cura di mia figlia in ogni modo possibile, nulla mi garantiva che non si sarebbe ammalata o non le sarebbe capitato qualcosa. Proprio così. Perfino i non credenti dicono che il destino dell'uomo è determinato dal cielo. La vita delle persone è nelle mani di Dio. Le nostre sofferenze esistenziali e il percorso che intraprendiamo sono stati prestabiliti da Dio tempo fa. Nessun essere umano ha voce in capitolo e alcuna influenza su certe cose. Sì. Una volta compreso ciò, ho provato un senso di liberazione. Ho capito che dovevo mettere la vita di mia figlia nelle mani di Dio e obbedire alle Sue disposizioni. In quanto essere creato, questo era ciò che dovevo fare. Amen. In seguito, quando mio marito ha visto che insistevo a credere in Dio, ha deciso di divorziare. Mi ha chiesto di andarmene senza portare via nulla e mi ha rifiutato la custodia di mia figlia. Voleva anche togliermi il diritto di visita. Quando gli ho chiesto della divisione dei beni, ha cercato di colpirmi in testa con una tazza di acciaio. Ho usato le mani per proteggermi, ma i polsi sono rimasti contusi e non sono riuscita a portare oggetti pesanti per due mesi. Mi ha anche picchiata sulla schiena diverse volte, provocandomi una tosse violenta per più di un mese. Poi si è impadronito di tutti i miei risparmi. Erano davvero tanti soldi. Mi ha detto, «Tu credi in Dio, vero? Allora vai dal tuo Dio. Chiedi a Lui di darti da mangiare e da vestire». Quando ho visto che era così poco ragionevole, mi sono tornate alla mente le parole di Dio. «Colui che si infuria quando viene menzionato Dio, che si arrabbia quando viene fatto il Suo nome, lo ha forse visto? Sa forse chi è Dio? Non sa chi sia Dio, non crede in Lui, ed Egli non Gli ha parlato. Dio non L'ha mai disturbato, quindi perché dovrebbe arrabbiarsi? Potremmo dire che questa persona è malvagia? Le tendenze mondane, il mangiare, bere, inseguire il piacere e le celebrità, non infastidiscono un uomo come Lui. Tuttavia, non appena viene menzionato Dio o la verità della Sua parola, va immediatamente su tutte le furie. Non è segno di una natura malvagia? Ciò è una prova soddisfacente della natura malvagia dell'uomo». Amen. Grazie alla parola di Dio, ho visto la natura malvagia di mio marito e la Sua resistenza a Dio. Ho ripensato all'inizio, a quando aveva saputo che credevo in Dio ed era ostile, arrivando a distruggere i miei libri. In seguito, ha cercato di impedirmi di credere in Dio e mi ha chiesto il divorzio. Dopo essere stata arrestata e rilasciata, mi ha trattata come una prigioniera, non concedendomi alcuna libertà e spesso mi picchiava ferocemente. A volte sembrava addirittura che volesse uccidermi. Quando abbiamo divorziato, ha sequestrato tutti i miei beni per costringermi alla disperazione e rendere la mia vita impossibile. Il Suo obiettivo era indurmi a tradire Dio. Ora vedo chiaramente la natura di mio marito. Era un diavolo che odia Dio e Gli resiste. Vivendo con una persona simile, non avremmo avuto nulla in comune, non avrei avuto libertà, sarei stata malmenata e oppressa. Avrei mai potuto chiamare casa a quel posto? Non erano altro che catene, era l'inferno. Sì. Vivere con un tale demonio può portare solo infelicità. Il divorzio era una fuga da tutto ciò. Hai ragione. Una volta finito il matrimonio, non ero più ostacolata e controllata da mio marito. Potevo andare alle riunioni e leggere le parole di Dio normalmente e ho subito assunto alcuni doveri nella chiesa. Provavo un profondo senso di tranquillità e di liberazione e ho ringraziato Dio per avermi salvata. Sia lodato Dio. La Tua condivisione mi ha fornito un percorso di pratica. Sia lodato Dio. La Tua condivisione mi ha fornito un percorso di tradizionale.